Un momento di confronto sull'attività parlamentare di governo in previsione delle regionali in campagna e delle elezioni amministrative del Comune di Salerno. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle resta quello di andare a governare con forza, potenza, volontà e determinazione. Così questa mattina in via Fiera Vecchia, nei pressi dello Spazio 5 Stelle, i portavoce di Salerno, del Movimento, Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo, che hanno incontrato i cittadini salernitani, presentando i candidati che saranno in campo con Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania della prossima competizione elettorale. Intanto vogliamo cogliere l'occasione per raccontare quello che è il nostro lavoro sia sul piano dell'attività parlamentare, ma anche per l'attività di governo, perché sicuramente il nostro impegno quotidiano è rivolto sempre all'interesse dei cittadini, ma in particolare nella peculiarità dell'attività delle singole commissioni. Io in particolare per quanto riguarda soprattutto l'attività di lavoro all'interno della Commissione Sanità, della Camera dei Deputati e anche rispetto alla legge delega sullo sport che ho vissuto in prima battuta durante la fase del governo giallo-verde e che adesso invece mi vede anche ai tavoli di maggioranza relativamente al testo unico che sta per essere completato e al quale stiamo lavorando. Sempre vivendo però queste politiche dello sport nell'ottica di una visione di prevenzione sanitaria, perché se questa riforma ha un senso ce l'ha proprio in questa direzione, quindi per la prima volta che l'attività di governo si porta a implementare determinate azioni che siano efficaci e possano garantire lo sport per tutti. Ma noi oggi ci ripresentiamo, come disse l'altra volta, alle regionali, ci ripresentiamo da soli perché dopo aver tentato e con un progetto allargato di aver fatto un appello di responsabilità a tutte le forze politiche, ancora una volta determinati portatori di interesse da una parte o dall'altra hanno voluto continuare su un vecchio percorso, per cui noi ci siamo, ci siamo con forza e diremo la nostra per quanto riguarda le regionali in campagna. Questo momento ci dà anche occasione per riaggregare tante energie civiche su Salerno e abbiamo cominciato già da qualche mese a lavorare, a continuare un percorso che in realtà è iniziato tanti anni fa per appunto aggregare grandi energie per le prossime amministrative a Salerno e devo dire che con grande, forse anche lo ammetto, con grande sorpresa stiamo avendo un riscontro notevolissimo su Salerno e questo rende sicuramente una sfida interessante. L'appuntamento di oggi del Movimento 5 Stelle è stata l'occasione anche per commentare l'attuale momento della pandemia e le azioni messe in campo. Come dicevo l'emergenza non è assolutamente terminata, quindi dobbiamo tenere il livello di attenzione altissimo e seguire tutte quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Sanitario Nazionale, quindi l'importante è avere il livello di attenzione, lavare sempre le mani, utilizzare una mascherina e stare attento. Ecco, non deve esserci, io non utilizzerei la parola di distanziamento sociale ma distanziamento fisico, quindi ci vuole una massima attenzione e dobbiamo essere uniti nel rispetto di queste regole, quindi unità sociale nel rispetto delle regole ma massima attenzione nel distanziamento fisico. Lì dove ci sono state purtroppo, ahimè, delle criticità, dei problemi, ovviamente la magistratura non entro nel merito, sta facendo dovuti accertamenti nelle rispettive regioni, lì dove si sono verificate purtroppo evidenze, per cui poi seguiremo quello che sarà il lavoro della magistratura per accertare le varie responsabilità. Le ordinanze della Regione Campania pongono in un certo senso un sigillo ai comportamenti dei cittadini, ritiene che manca qualcosa? Ma purtroppo penso sia l'evidenza di tutti quanto il sistema sanitario regionale abbia avuto negli anni, abbia tutt'oggi delle grandi criticità. La linea che è stata utilizzata forse per nascondere queste mancanze è stata una linea apparentemente dura, però a mio avviso chi è responsabile deve intervenire per migliorare il sistema sanitario, quindi questa è la priorità, stravolgere e migliorare totalmente il sistema sanitario regionale.